Un pareggio che vale, che fa classifica, fa morale, dà continuità, abbiamo affrontato una buona squadra, a tratti ci hanno messo in difficoltà, a tratti abbiamo messo noi in difficoltà loro, mi sembra che tutto sommato poche occasioni da gol, potevamo vincerla alla fine, quel miracolo del portiere, potevamo perdere la prima, direi che tutto sommato il risultato rispecchi fedelmente quanto si è visto, comunque complimenti ai ragazzi che hanno sfoderato una prestazione soprattutto a livello mentale giusta, con grande concentrazione, abbiamo concesso poco a una squadra che sta facendo un grande campionato, quindi diamo continuità a quello che stiamo facendo, noi dobbiamo sempre ricordarci dove siamo partiti, quindi è chiaro che vincere fa sempre bene, però questo è un punto che vale contro una buona squadra, diamo continuità, ci allontaniamo piano piano dalla zona pericolosa in attesa di tempi migliori, però va bene così.